I datori di lavoro possono vietare al personale di indossare simboli politici, filosofici e religiosi visibili. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia che si è pronunciata sul caso di due donne, in Francia e Belgio, licenziate per essersi rifiutate di togliere il velo. La sentenza armonizza le pratiche dei datori di lavoro sulla materia in tutta l'Unione Europea, ma non vincola in alcun modo le decisioni finali che spettano ai giudici dei singoli paesi. Per la Corte Europea di Giustizia una regola aziendale interna che vieta di esibire sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili non costituisce una discriminazione diretta. La regola interna, precisano i giudici, non deve avere a che fare con una determinata confessione religiosa o con una persona in particolare, ma con una più generale politica di neutralità dell'azienda.